Conosco Marco Proserpio da tantissimo tempo, dal 2004, quando lui era un intern a MTV, dove lavoravo all'epoca ed ero amico del fratello per giri di musica e skateboard e altre cose del genere. Abbiamo lavorato tantissimo insieme e siamo molto amici. Nel 2012 stavamo facendo un programma per la F, che si chiamava Orto e Mezzo, niente meno, e Marco, che continuava a fare anche varie cose in giro, aveva seguito una NGO italiana in Palestina per realizzare dei workshop con artisti locali. Durante quel viaggio ho incontrato Walid the Beast, che è il protagonista indiscusso del film e dei nostri ultimi due anni. La sera stessa mi ha scritto, dicendomi, ho incontrato questo personaggio che mi ha raccontato questa storia e mi ha proposto di acquistare per 300 dollari, se non sbaglio, il girato della rimozione del muro fatto con dei telefoni cellulari. Che cosa faccio? Ho detto al massimo hai perso 300 dollari, che per loro sono tantissimi, per te sono un pochino di meno e gli ho mandato una sorta di contratto liberatorio per fare in modo che almeno la transazione fosse correttamente eseguita e lui da quel momento ha iniziato a girare seguendo questo pezzo di muro, seguendo la storia e ci siamo un pochino persi di vista. Io nel 2014 mi sono trasferito in Gran Bretagna, abbiamo continuato a sentirci per altre cose, seguivo a distanza quello che stava succedendo. Nel 2016 aveva tantissimo materiale e non sapeva cosa farne, però aveva fatto una cosa molto intelligente, vale a dire aveva realizzato un finto trailer come se il film fosse già uscito, in realtà non esisteva il film, addirittura aveva messo la classica pagina, la classica schermata con tutti quanti i festival a cui non era stato, anche a rischio di denuncia evidentemente, però grazie a quello è stato contattato da tantissime persone che poi sono finite nel film e hanno alimentato la storia. Avendo così tanto materiale gli ho proposto di partecipare a un'iniziativa dello Scottish Documentary Institute che si chiama The Edinburgh Pitch ed è un pitch letteralmente per 12 documentaristi che possono portare un'idea che può essere sul pezzo di carta o da finalizzare e la proposta di Marco di The Man of Stoll Banks è stata accettata, è venuta su Edimburgo, ha presentato il progetto con fortuna alterna nel senso che il pitch prevede anche degli incontri con il commissioner della BBC piuttosto che di altre realtà britanniche e chiacchierando mi ha detto ma ti andrebbe di darmi una mano? E così ho iniziato, abbiamo lavorato nei primi mesi cercando di definire che cosa fosse il film, quale fosse la storia, che cosa mancava, cosa invece era da togliere, da tagliare eccetera eccetera, dargli una struttura economica, capire dal punto di vista legale come muoversi perché come potrete immaginare un film che parla di copyright, furto di arte, deve avere una base legale vagamente solida e poi abbiamo iniziato a cercare dei partner. Il primo con cui abbiamo parlato seriamente per qualche mese è stato Viceland che è il canale della piattaforma Vice, sono stati due mesi in trattativa e poi non è successo niente. In quel periodo, tanto per tornare indietro nel tempo a MTV ho incontrato una vecchia amica e collega, Lucia Nicolai che è uno dei due produttori esecutivi del film che aveva appena iniziato a lavorare con l'altro produttore esecutivo, Marcello Paolillo che si sono proposti di darci una mano a cercare fondi e ci hanno aiutato, hanno trovato un accordo con El Driver che è un sales agent, fa parte del gruppo Wild Bunch e che vende il film a livello internazionale e con Rai Cinema per l'Italia, in cui abbiamo trovato un piccolo fondo per la post-produzione con il Doha Film Institute che ci ha permesso di integrare nel film un narratore d'eccezione come Iggy Pop e a quel punto abbiamo deciso che dovevamo fare e dovevamo finire il film perché in tutto questo non c'era niente oltre a pochi minuti montati per cui abbiamo realizzato le ultime interviste e in fretta e furia, come sempre succede l'abbiamo finalizzato dopo un'estate di fuoco e post-produzione Allora, per tanto tempo il film non ha avuto una voce narrante perché pensavamo, speravamo che non ce ne fosse bisogno e la nostra idea doveva essere ancora più selvaggio, se vogliamo, e gonzo di quanto non lo sia adesso il film Poi anche sul suggerimento dei partner che stavano pian piano entrando abbiamo deciso di introdurre una voce narrante abbiamo fatto registrare una traccia a un amico torinese fra l'altro Victor Scissano o Victor Quality che è anche uno degli autori della colonna sonora e per un certo periodo abbiamo detto beh, comunque teniamo Victor poi chiaramente chi prende in mano un film e prova a venderlo oltre al nome di Banksy che usiamo come esca più che altro perché c'è poco in realtà di Banksy paradossalmente nel film ci hanno proposto, ci hanno chiesto fra virgolette di utilizzare una voce famosa perché dicevano avrebbe aiutato e così è stato per cui ci hanno proposto una serie di nomi quasi tutti legati al mondo del cinema, attori e via dicendo e noi abbiamo fatto la nostra lista, io e Marco il primo nome era Iggy Pop e poi ce n'erano altri più o meno sempre in ambito musicale perché c'era Tom Waits, c'era Henry Rollins, Nanny Cherry poi c'erano anche nomi che non hanno nulla apparentemente a che fare con Banksy e il suo mondo che sono Kate Moss e Eric Cantona il calciatore, attore, insomma è personaggio a 360 gradi per cui abbiamo scritto al manager di Iggy Pop che dopo due ore ci ha risposto e ci ha chiesto di mandare il materiale per valutare il film è stato una... credo qualche giorno ci ha avuto qualche giorno per leggere il progetto vedere quello che era montato fino a quel punto poi ci ha dato l'ok e per noi era molto importante perché era il primo nome della nostra lista perché è una voce che rappresenta il lato punk selvaggio del film e quindi la rivolta che è uno dei temi del film ma è anche una voce che da una parte non ha una connotazione politica diretta e per noi quella era una cosa importante perché vogliamo invitare la gente a vedere il film e non vogliamo che entri in sala pensando che sia un film schierato cosa che è naturalmente chiaro però vorremmo che il film fosse visto e apprezzato possibilmente anche da persone che non hanno un'idea precisa che entrano in sala per curiosità e che magari uscendo decideranno di approfondire alcuni temi come per esempio quello della Palestina e poi Iggy è anche una persona di una certa età si può dire e ha questa voce molto calda, bassa, rassicurante e ci ha permesso di raccontare la storia del film in alcuni momenti come se fosse una sorta di favola in altri usando un tono sarcastico che non guasta insomma Marco è stato molto contento, onorato direi di aver ricevuto il premio Hamilton proprio perché la descrizione delle motivazioni potrebbe essere in qualche modo una descrizione del suo approccio al lavoro nel senso che rispetto a tanti altri documentaristi e registi della sua generazione ma anche delle generazioni precedenti Marco non ha fatto scuola di cinema non ha iniziato volendo fare il regista non ha iniziato facendo cortometraggi eccetera eccetera ha avuto un percorso molto diverso perché è partito facendo musicista suonava in un gruppo punk, suonava al basso ha iniziato a lavorare in televisione nella televisione commerciale fra virgolette anche se era un piccolo canale e facendo un po' tutto quanto non disdegnando mai appunto da prendere in mano la camera e andare a girare e poi piano piano ha iniziato a sperimentare a volte sbagliando a volte facendo delle cose interessanti e paradossalmente è arrivato a realizzare un lungometraggio senza pianificarlo per cui ha sempre avuto questo approccio molto da Maverick per usare un'altra espressione forse desueta però è molto fresco il suo punto di vista il suo approccio proprio perché non si sente regista o come diciamo noi spesso non è né della generazione dei registi con la sciarpa bianca né della generazione dei registi con i tatuaggi e il cappellino girato è una persona curiosa con un'intelligenza viva rapida, veloce con uno sguardo curioso altrettanto curioso sul mondo per cui direi che il connubio Proserpio Hamilton è quasi perfetto il film è già uscito in diversi paesi del mondo la premiera è stata ad aprile di quest'anno a Tribeca poi ci sono stati vari festival in giro per il mondo ed è uscito in paesi molto lontani tipo il Giappone, la Thailandia ma anche se non sbaglio il Belgio, l'Olanda, la Svezia, la Norvegia e uscirà nei prossimi mesi anche in altri paesi compresi Gran Bretagna, Stati Uniti e via dicendo in Italia eravamo molto curiosi di sapere che fine facesse perché uno dei nostri partner era i cinema che ha creduto fin da subito nel film e non ha mai imposto niente per cui siamo ci ha lasciato la libertà di lavorare, di finire il film davvero come volevamo farlo nei mesi scorsi è subentrato un distributore che si chiama Nexo Digital e che si occupa di uscita e evento nel cinema grandi film d'arte per esempio la stagione che si chiama la grande arte al cinema mi dimentico sempre film musicali e via dicendo che ci ha proposto di lavorare insieme ha proposto a Ray Cinema e poi a noi ci ha proposto anche di doppiare il film cosa sulla quale noi non eravamo molto d'accordo ma sulla quale avevamo poco potere perché poi questa è una di quelle cose di cui non ti rendi tanto conto fino a che non ti ci trovi direttamente in mezzo vale a dire ti passa tutto sotto per approvazione ma la tua approvazione ha un valore ha un valore relativo basta pensare a come vengono tradotti certi titoli stranieri in Italia e viceversa probabilmente per cui Nexo ci ha proposto di lavorare insieme e di tradurre il film siamo arrivati a una via di mezzo che ha accontentato nessuno probabilmente però il film è stato abbiamo mantenuto la voce di Iggy Pop sottotitolato Iggy è sottotitolato e abbiamo invece doppiato tutte le interviste per cui è stato molto difficile perché gran parte degli intervistati non parlano la loro lingua quindi hanno un vocabolario molto limitato commettono un sacco di errori dicono un sacco di strafalcioni e questo non è stato facilissimo da tradurre in italiano dove peraltro tocca anche andare adeguarsi a quelle che sono le scelte comuni cioè di utilizzare l'italiano finto della televisione quello in cui tutti parlano allo stesso modo e non ci sono i bellissimi accenti regionali che abbiamo in Italia però alla fine a parte gli scherzi siamo contenti del lavoro in particolare del mixaggio di Paolo Piccardo il film uscirà come ultimo titolo della Grande Art del Cinema 2018 312 sale l'11 e il 12 dicembre e poi andrà anche farà un giro scuole, musei, mostre e via dicendo e l'anno prossimo credo febbraio o marzo 2019 ci sarà un'uscita televisiva non so ancora dove per la verità però dovremmo saperlo a breve a breve a breve a breve Grazie a tutti.